Buonasera a tutti. Oggi parliamo inevitabilmente, viste gli ultimi eventi, delle ultime ore di Medio Oriente, e io inizierei facendovi vedere un'intervista che ho fatto stamattina con la gentilissima Ainieta Arqian, che è una docente e coordinatrice del Master di Lingua Italiana in Studi Islamici dell'Università Internazionale di Al-Mustafa in Iran, è un'itola iraniana ed è una studiosa anche di quelle che sono le vicende geopolitiche, in particolare ovviamente riferite al Medio Oriente. Partirei subito Giulio, vediamo questa intervista e poi voglio un po' sentire che cosa ne pensate. Adesso, ok, è incominciato adesso. Vediamo, perché ogni tanto io ho stamattina una connessione non perfettissima, quindi speriamo che vada… Adesso è iniziata la registrazione. Vada tutto bene, infatti aspetta un attimo perché non inizia. Abbia ora, perfetto. Buongiorno, buongiorno Agnè, grazie per essere… per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa intervista che poi pubblicheremo nel nostro video, nella nostra trasmissione, il bar di Don Quixote. Naturalmente parliamo della situazione medio orientale. Parto subito facendoti una domanda così brutale che mi è venuta in mente ieri mattina guardando una trasmissione televisiva dove è intervenuto il professor Pejman, spero di pronunciarlo bene, insomma mi si perdonerà, il quale, insomma mi è venuta in mente ieri mattina, insomma mi è venuta in mente ieri mattina, insomma mi è venuta in mente ieri mattina. Anna, dal tuo punto di vista questa affermazione è una affermazione corretta, non lo è, se non lo è, perché non lo è? Vorrei sapere la tua opinione dal punto di vista di una persona informata dai fatti. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. Dunque diciamo che secondo me è un'affermazione abbastanza ridicola, nel senso che penso che chiunque sia stato in Iran almeno una volta e abbia avuto l'occasione di parlare con gli iraniani e non parlo di determinate persone per la strada, per camminando, perché comunque gli iraniani sono peraltro persone molto ospitali, a cui piace anche parlare, condividere le proprie idee, le proprie opinioni con gli altri. E il fatto che possano esserci persone in Iran che magari non sostengono la Repubblica Islamica o cose di questo genere può anche darsi, è possibile, comunque in qualsiasi stato ci sono persone che hanno opinioni diverse e questo vale anche per l'Iran. E può anche darsi che ci siano persone che considerino Netanyahu un alleato. Però affermare che l'80% degli iraniani abbia un'opinione di questo tipo è secondo me un'affermazione alquanto azzardata, se non assolutamente ridicola, perché chiaramente qua nei telegiornali, nei giornali non vi mostrano le immagini di quelle che sono le manifestazioni che spesso si svolgono in Iran a sostegno della causa palestinese e peraltro queste manifestazioni ci sono state anche nei giorni scorsi, quindi manifestazioni a sostegno del popolo palestinese che invitavano il governo iraniano a compiere questa azione di rappresaglia nei confronti di Israele che era già stata annunciata da tempo. E ieri sera poi, anche qua, chiaramente queste immagini non vengono mostrate dai telegiornali italiani, ma per chi segue i canali di controinformazione può vedere i video delle persone che scendevano in piazza a Teheran, come in altre città iraniane, elogiando l'operazione delle forze armate iraniane contro gli ennesimi sopprusi di Israele, le ennesime provocazioni di Israele, festeggiando, portando le bandiere sia di Hezbollah che dei Pashtaran, che è la bandiera dell'Iran. Ribadisco, sicuramente ci saranno persone in Iran che potrebbero anche sostenere Israele, ma che siano l'80% è assolutamente un'affermazione ridicola. E peraltro la stessa comunità ebraica iraniana che è una delle comunità più antiche del Medio Oriente ed è la comunità più grande dopo la comunità ebraica presente nella Palestina occupata, che ricordo ha anche rappresentanti in Parlamento, viene tutelato da un punto di vista delle norme dello Stato, della Repubblica Islamica, eccetera, e anche loro hanno dato il loro sostegno alla causa palestinese. Quindi questo sostegno ai palestinesi è condiviso sicuramente dalla maggior parte del popolo iraniano e questo può vederlo chiunque abbia un minimo di buonsenso e oltre a seguire quelle che sono le notizie del mainstream, cerchi anche di informarsi sugli altri canali di informazione che ormai sono disponibili sia su Telegram, sia su altre, ma anche YouTube, voglio dire che per chi vuole un'informazione alternativa le possibilità non mancano e quindi secondo me è un'affermazione. Oltre al fatto che io veramente, cioè una persona che dopo tutti questi crimini che sono stati commessi da Israele e in particolare da questo governo di Netanyahu possa affermare di essere un sostenitore di Israele dopo tutte queste violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale, cioè io penso che non solo in Iran ma anche nel resto del mondo la maggior parte delle persone, non parlo dei governi perché chiaramente poi ci sono interessi sia in Occidente sia magari purtroppo anche alcuni governi arabi che chiudono un po' gli occhi su quelle che sono le oppressioni del governo israeliano, però i popoli, la gente, io penso che la maggior parte siano assolutamente contrari a quelle che sono le politiche genocide israeliane e questo vale insomma dappertutto, almeno dal mio punto di vista. Ma quindi, poi passo diciamo alla seconda domanda che mi interessa in modo particolare, insomma, le dichiarazioni di Netanyahu e comunque in generale del governo israeliano da quello che sto seguendo in queste ore, questa specie di sorta di appello al popolo iraniano alla liberazione è una provocazione sostanzialmente? è questo secondo te? Cioè, come funziona? Anche diciamo, cercando di mantenere una visione no, prettamente politica, che senso può avere un richiamo di questo generale? Sì, cioè, anche io ho letto insomma queste manche, ma anche qua sono affermazioni assolutamente ridicole, cioè il popolo iraniano non ha mai chiesto di essere liberato, ma poi essere liberato da chi? Da un regime oppressore come quello israeliano? Non ha assolutamente al consenso, poi ribadisco, possono esserci benissimo iraniani che sostengano Israele, ma sono assolutamente una minoranza e poi insomma io metterei in dubbio quelli che sono i valori umani di una persona che possa ancora tutt'oggi, dopo tutti i crimini che ha compiuto Israele, sostenere un regime di questo genere. Ma a parte questo, sono chiaramente dichiarazioni che vengono fatte con scopi politici per, come al solito, dimostrare che l'Iran è lo stato canaglia per eccellenza, mentre invece Israele si sta, tra virgolette, difendendo. Fa niente che si sta difendendo uccidendo civili in Palestina, in Libano, violando tutte le norme internazionali. Però questa purtroppo è la propaganda che viene sostenuta molto chiaramente e molto vergognosamente dal mainstream in Occidente e anche purtroppo da molti governi occidentali. Vediamo se mi senti ora, no? Sì, sì, io ti sento. Perché ho dei rallentamenti, quindi ogni tanto mi si frizza, anche l'immagine si ferma. Ho dei problemi di connessione, stamattina sarà il brutto tempo che c'è a Milano. Allora, la domanda che mi preme farti è questa. Ipotizzando di dover spiegare, no? Giustamente dal tuo punto di vista, con la tua visione, ha una classe di bambini piccoli, cioè di piccoli, di ragazzini, no? Cioè, quindi cercando, voglio dire, di provare a semplificare la spiegazione di quello che sta succedendo, no? O di quello che è successo. Che parole useresti? Come racconteresti, effettivamente, questa realtà che è complessa già, insomma, è difficile da capire per gli adulti, figuriamoci magari per dei bambini. Ecco, che cosa racconteresti, cosa diresti? Sì, è interessante perché praticamente mia figlia mi ha fatto la stessa domanda ieri, prima di andare a scuola, lei frequenta la scuola superiore, e mi ha detto, mamma, guarda, molto probabilmente a scuola può darsi che mi chiedano riguardo, insomma, a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Peraltro ci sono già state discussioni, perché comunque chiaramente succede, insomma, soprattutto per chi frequenta la scuola superiore, che venga trattata quella che è la situazione in Medio Oriente. E io le ho detto per quanto riguarda la questione palestinese, perché comunque quello che è successo, questa rappresaglia, questo attacco dell'Ira nei confronti di Israele, è comunque una risposta ai sopprusi di Israele, non solo nei confronti dell'Iran, del Libano, ma soprattutto della Palestina. Quindi la questione principale qui non è un conflitto fra Israele e Iran, è la questione palestinese, che è una questione che purtroppo è rimasta ancora irrisolta. Quindi io le ho detto, tu potresti fare l'esempio di una persona che viene attaccata in casa sua, nel suo quartiere, si presenta a questo gruppo di bulli che vuole occupargli la casa, il quartiere, vuole cacciare la sua famiglia da quella che è la sua abitazione, da quello che è il suo quartiere, dove hanno vissuto sia lui che i suoi avi, eccetera. E cosa fa questa persona, cosa faremmo se ci succedesse una cosa di questo genere, qualsiasi persona di noi, insomma? Molto probabilmente cercheremmo di rivolgerci alle forze dell'ordine, quindi chiameremmo la polizia, i carabinieri, per impedire a questi bulli di cacciarci dalla nostra casa. Ora, supponiamo che le forze dell'ordine non rispondano alla nostra chiamata, non facciano niente per impedire a questi bulli di cacciarci dalle nostre case. Non solo, questi incominciano anche a uccidere i membri della nostra famiglia, incominciano ad uccidere quelli che magari sono, mettiamo, i rappresentanti della nostra comunità nel quartiere, i nostri leader, tra virgolette, e anche in questo caso le forze dell'ordine non fanno nulla. Cosa farebbe una persona razionale in questa situazione? Io non penso che se ne starebbe seduta senza fare niente. E la questione palestinese è molto simile a una situazione di questo genere, quindi un gruppo di persone che hanno occupato con tutta una serie di strategie la terra dei palestinesi e la comunità internazionale che, tra virgolette, dovrebbe essere o almeno si è fatta carico di mantenere un certo ordine e la giustizia nel mondo, non è stata in grado, fin dall'inizio, di gestire questa situazione di conflitto. Questi sopprusi israeliani che non sono cose che succedono solo in questi mesi, i palestinesi che vengono uccisi, i civili, i bambini, le donne, sono crimini che ormai si ripetono ogni anno, ogni mese, fin da prima in realtà che lo Stato di Israele fosse fondato. E Israele, questo può vederlo chiunque, la violazione del diritto internazionale, l'incapacità quindi della comunità internazionale che si è fatta carico della risoluzione dei conflitti e dei problemi nel mondo, si è rivelata completamente incapace di risolvere la situazione, la questione palestinese, di portare una vera pace in Palestina. Per cui, quale altra alternativa a un popolo, che sia il popolo palestinese, che sia il popolo libanese, o che sia la nazione iraniana, se non quella di cercare di opporsi, anche purtroppo a volte con azioni militari, perché non c'è altra alternativa. L'Iran avrebbe dovuto rispondere all'assassinio del leader di Hamas, avvenuto per mezzo di Israele a Teheran, quindi violazione anche dell'integrità territoriale iraniana, avrebbe dovuto rispondere a questo attentato subito dopo, ma ha aspettato, ha aspettato perché i paesi occidentali avevano promesso un cessato al fuoco a Gaza, che non è mai successo. Quindi, quando la comunità internazionale non è in grado di stabilire pace e giustizia, non è in grado di fermare la macchina omicida, genocida israeliana, un popolo, che sia quello palestinese, che sia quello libanese, che sia quello iraniano, non ha altra alternativa, se non quella di, non voglio proprio dire farsi giustizia da solo, però in qualche modo opporsi ai sopprusi israeliani e cercare in qualche modo di fermare Israele e far capire che, insomma, non è che possano fare tutto quello che vogliono. Ciudiamo con una nota di positività a questo punto, no? Quale sarebbe la soluzione ideale? Come la vedi? Quale sarebbe secondo te? Ma, semplicemente, anche qui, quello che è il diritto di ogni popolo, il diritto di ogni popolo è quello di autodeterminarsi, di poter avere uno Stato veramente sovrano, di avere il diritto di stabilire quello che è il proprio destino. Chiaramente il popolo palestinese non ha questo diritto in questo momento, quindi dovrebbe quantomeno esserci un referendum che dia la possibilità ai palestinesi, quelli veramente autoctoni, originari della terra palestinese, che siano musulmani, cristiani o ebrei, non fa differenza, di decidere il proprio ordinamento politico, di decidere quella che è la costituzione del proprio paese, quello che è il proprio governo e questa possibilità in questo momento i palestinesi non ce l'hanno o comunque è qualcosa, perché non esiste uno Stato palestinese sovrano, non esiste una cosa di questo genere, non è sovrano del proprio territorio, di gestire le proprie risorse come farebbe un qualsiasi altro Stato. Quindi secondo me la soluzione potrebbe essere appunto quella di restituire al popolo palestinese la capacità di autodeterminarsi e di gestire il destino del proprio paese. Io ti ringrazio, è stata un'intervista molto interessante, perché come dicevi tu giustamente siamo abituati a sentire sempre diciamo delle narrazioni piuttosto univoche e quindi insomma mi piace sentire le testimonianze delle persone che sono ripeto direttamente coinvolte insomma, perché questa è una cosa che fa del bene all'informazione. E poi speriamo tutti naturalmente sempre in un epilogo che sia di pace, ecco onestamente, visto la situazione. Ti ringrazio e vediamoci magari qualche altra volta insomma con l'evolversi di questa drammatica situazione. Buona giornata e a presto, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Eccoci. Allora, abbiamo visto di che cosa si è trattato. Alessandro, cosa ne pensi? Che è quello che hai sentito? Sì. E anche in generale, che cosa pensi della situazione? Sì, è un dato di fatto, è una situazione esplosiva. Purtroppo si vede ogni giorno morti, bombardamenti. Anniè fa un'analisi che tendenzialmente è condivisibile e lucida. Lì c'è un'entità che è Israele, che è comunque un fattore destabilizzante, è una situazione irrisolta dagli anni 40 del 900, e non è la prima volta, chiaramente, che scoppia qualcosa in quelle zone e il 7 ottobre non viene a caso, no? Tendenzialmente si sente dire, in tanti talk show anche nostri, il 7 ottobre è un abominio, un gruppo di pazzi, di terroristi che hanno fatto una strage. Il 7 ottobre certamente è un dramma, è un dramma però che viene dal lontano. E lì la situazione irrisolta è quella di un popolo che non ha un proprio Stato, di un popolo che non ha diritto ad esistere, di un popolo che viene oppresso da decenni. Io credo che la nascita di uno Stato palestinese sia fondamentale, sia quello sia un fattore stabilizzante del Medio Oriente. Però, insomma, la sensazione è quella che veramente l'Occidente che già ha fatto i suoi bei danni, perché io, insomma, non andiamo troppo indietro con la storia, ma questi sono tutti i danni causati comunque dall'Occidente. Su questo non c'è alcun dubbio, insomma. Purtroppo continua a causarne, perché, insomma, anche nel momento in cui dovrebbe intervenire, se non altro gli Stati Uniti d'America, però, insomma, anche lì si aprirebbe tutto un altro discorso, almeno per cercare di porre alcuni paletti, vediamo che siamo completamente... l'Occidente è in balia di quello che sta succedendo. E quindi è difficile, proprio, è difficile dare una lettura del futuro, ecco. Perché non si capisce... Io non riesco a capire. Cioè, non vedo strategie, questa secondo me è la cosa più drammatica. Scusa, ti ho interrotto. No, guarda, io quello che vedo è quello che si può dare in qualche modo per un dato di fatto, è che se noi, se Israele non esistesse in quella parte di mondo, è un dato di fatto che ci sarebbe una striscia islamica, certamente anche l'Islam, come sappiamo, è diviso in varie correnti, no? Principalmente sono due, quella sunnita e quella sciita. E l'Iran è appunto il più grande paese e comprende la più larga parte di popolazione che è sciita. Dall'altra parte, diciamo, la guida sunnita e l'Arabia Saudita. Però è un dato di fatto che divisioni evidentemente superabili attraverso il dialogo nell'Islam vengono effettivamente fomentate da una parte importante dell'Occidente affinché queste divisioni invece scoscino in guerre, in divisioni, perché chiaramente l'unità dell'Islam è chiaro che fa paura a una certa parte di mondo. Israele è un paese sostenuto dagli Stati Uniti che ha come obiettivo certamente quello di mantenere la divisione del Medio Oriente, la divisione dell'Islam e gli Stati Uniti hanno come interesse primario quello. Perché? Perché gli Stati Uniti sono almeno da 1989-91 la superpotenza per eccellenza nel mondo e vedono quindi di cattivo occhio tutte quelle aree del mondo che in qualche modo possano mettergli un freno, possano mettergli in difficoltà, possano mettere in discussione il ruolo che hanno in questo momento e che effettivamente e oggettivamente si sta sgretolando. Cioè siamo in una fase di transizione da un mondo unicolare, cioè un mondo dove gli Stati Uniti hanno fatto almeno per 25 anni, 30, i gendarmi del mondo a un mondo dove effettivamente stanno sorgendo vari centri di potere e il polo islamico sarebbe uno di questi centri. Quindi fanno di tutto affinché questo polo non si crei. Vabbè, comunque è un gran pasticciaccio. Magari poi ci torniamo dopo perché secondo me è anche proprio la perdita di autorità americana che è proprio la cosa più eclatante che io vedo in tutta questa situazione. Però mi sarebbe piaciuto sapere da Patrizia che cosa ne pensa lei dell'aspetto della comunicazione e dell'informazione soprattutto diciamo alle giovani generazioni nel tentativo per spiegare insomma bene o male che cosa succede. Insomma faccio anche a lei la stessa domanda che avevo fatto a Dani. Cosa ne pensi? Come la racconteresti tu? Da questo linguaggio che viene usato anche dal mainstream che praticamente parla della guerra come se fosse una soluzione che praticamente è necessaria perché se vuoi esportare la democrazia è necessario colpire quei popoli che la democrazia non ce l'hanno anche se non viene chiesto come diceva giustamente nell'intervista e quindi già a partire dal fatto che la guerra non serve a questo ma serve solamente a uccidere persone innocenti in nome di un potere che in questo caso quello di Netanyahu che vuole per forza conquistare i territori palestinesi e allargare quindi il suo dominio su tutta quell'area e quindi come fanno chiaramente fanno disprezzano il nemico quindi c'è questa despecificazione naturalistica del nemico il nemico è quello brutto attivo quello che deve essere per forza condannato ucciso e quindi è un animale che va per forza condannato e messo in croce perché tanto non ha valore perché solamente lui è quello che purifica salva le persone quindi c'è questa santificazione addirittura dell'operazione militare che è assurda perché nella religione quindi questo dovremmo poi far capire anche i giovani non è una guerra di religioni ma è una guerra del potere perché la religione può essere di qualsiasi indirizzo però Dio è sempre Dio quindi non ci deve essere una divisione perché uno è un islamico l'altro è cristiano l'altro è prodosso o è sunnita quello che tutte le religioni hanno come unico riferimento Dio e quindi non c'è bisogno di una guerra perché la guerra religiosa non esiste perché nello spirito le persone che devono crescere non con le armi quindi la prima cosa che direi a un ragazzo è state attenti all'informazione che ricevete da questi giornali che ti dicono che questa persona è un santo praticamente infatti ora stanno dicendo che vanno lì e liberano tutti come si diceva prima ed è una cosa assurda completamente perché io quando anche sono andata in Giordania sono passata anche in Israele c'è un muro di divisione cioè già lì vedi come questo popolo non vuole convivere in pace con quelli che gli stanno intorno vuole per forza separare cioè loro sono quelli superiori quell'altri sono esseri inferiori questo non va assolutamente bene c'erano il filo spinato intorno cioè io ho visto veramente delle cose terribili come vengono trattati questi palestinesi è assurdo perché poi nei palestinesi ricordiamoci sono anche i cristiani quindi per loro non vale niente sono solamente persone da eliminare e quindi i bambini non sono bambini abbiamo una generazione di un popolo che ormai non esiste più hanno fatto dei genocidi quindi tutto questo porta a questa nella storia se andiamo nella filosofia al liberalismo coloniale di cui poi tutti si sono ammantati per poter fare le stragi che hanno fatto nel corso di tutti questi anni quindi io partirei da questo dal linguaggio di ritornare nuovamente a un linguaggio reale che la guerra è una guerra e non porta a niente e la pace può essere conquistata solamente con il dialogo quando due parti si mettono con la stessa autorità e non uno è inferiore all'altro e dialogano con l'aiuto anche di terze persone cioè di mediatori come dovemmo essere anche noi che se ci mettiamo questa diciamo noi siamo i più bravi Europa è quella più brava è quella che apre a tutti siamo democratici se siamo veramente un'Europa del genere che riputiamo la guerra dovemmo fare da mediatore non alimentare sempre di più questo genocidio che secondo me porta solamente a cosa a niente porta solamente alla distruzione dell'essere umano e quindi queste sono provocazioni anche l'Iran è stata è provocato come il Libano è provocato per poter scatenare una guerra e dire guarda sono stati loro che stanno provocando e io mi devo difendere quindi li devo eliminare ecco questo secondo me va chiarito perché mio nipote piccolo ho cercato anche di dirgli queste cose perché anche lui era convinto che i cattivi erano da una parte sola insomma si deve cercare di capire che non è proprio così direi decisamente non so se ho risposto alla tua domanda hai risposto perfettamente tra l'altro un'altra delle scamottage del linguaggio è stato usato proprio in queste ore non so se avete notato hanno lanciato credo qualcosa come 100 missili dall'Iran anche Alessandro conferma mi sei vero e la prima reazione comunicativa è stato quello di come dire prendere in giro questo lancio avete visto che hanno lanciato ma alla fine non ci hanno fatto niente vedete che non sono neanche capaci era partita un po' questa storia poi leggevo che invece oggi c'è stata un'ammissione che invece insomma certi missili hanno fatto male come si hanno fatto male e poi non sono riusciti neanche a creare questo famoso di protezione quindi anche lo sminuire non fa altro che secondo me a questo punto alzare ulteriormente gli animi grazie Patrizia io però volevo chiedere a proposito di indipendenza a Tiziano che cosa ne pensa del fatto che si voglia pensare di creare una realtà diciamo un po' un po' una realtà a parte come può essere stata quella anche non so di Gaza e comunque del territorio di Palestina in generale ipotizzando che comunque questa realtà non possa essere autonoma neppure dal punto di vista della creazione di moneta cioè la faccio breve i palestinesi anche volendo creare uno stato indipendente non avevano la possibilità e l'autorizzazione da parte di Israele di creare la propria moneta questa è una cosa che Tiziano do la palla a te ma tu mi capisci che torniamo al discorso cioè è inutile a parlare di pace e di stati separati se poi le condizioni sono queste cosa ne pensi mi dai un assist importante perché io avevo scritto anche proprio sul nostro blog di come Don Chisciotti un articolo con il titolo la sconfitta di Dio proprio parlando della questione israelo palestinese per diversi fattori che posso provare a sintetizzare in 3-4 punti per me è diventato assolutamente impossibile pensare di intendere il possibile futuro per la Palestina Israele due popoli e due stati ormai non è più possibile perché abbiamo visto che con tutte le infiltrazioni dei colonici giordani è diventata ormai una gruviera di persone violente persone terribili ho letto cose terribili da fonti credo anche attendibili perché ho seguito più fonti tutte indipendenti perché noi abbiamo un'informazione che è assolutamente azzerata è una cosa veramente vergognosa e da questi fatti ormai c'è una proprio una posizione da parte di Israele nei confronti di questo popolo di una forma di razzismo talmente terribile come giustamente ha detto Patrizio poco fa che proprio traspare quasi un odio addirittura più 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 casi soprattutto anche da affermazioni da parte di ministri e altri hanno considerato pubblicamente i palestinesi come dei subumani a livello degli animali ora chi ha avuto ha vissuto il dramma della Shoah perché è stato un dramma anche se non come ce l'hanno raccontato ma è stato comunque un dramma terrificante gente che ha provato quella sofferenza che ha toccato con mano per i chi genitori chi nonni eccetera oggi arrivare ad essere addirittura a livello dei peggiori nazisti di allora c'è qualcosa che non torna allora se mi permetti sì concludo dicendo quello che tu hai detto hai sottolineato una cosa importante io l'avevo messo anche nell'articolo perché la moneta che utilizzava la Palestina era la stessa moneta di Israele che era controllata dalla banca centrale di Israele già questo era uno strumento più che sufficiente per avere il potere assoluto sui palestinesi questo se qualcuno riesce a fare il parallelo con l'Unione Europea bravo perché è esattamente così noi siamo anche oggi una colonia non abbiamo più nessun potere di autodeterminarci e dipendiamo interamente da potenze esterne potenze esterne al nostro paese e anche fuori dal nostro continente e la cosa che ci rende totalmente vittime è la mancanza di una nostra sovranità di nazione ma soprattutto sovranitaria perché è la prima forma di auto la prima necessità diciamo il primo strumento per poter autodeterminarsi mancando quella manca tutto il resto e questo era quello che era in Palestina detto questo vorrei allargare un attimino pochi pochi secondi un il focus su un aspetto che a me ha toccato molto e che forse è dettato dalla stessa dalla stessa caratteristica antropologica cioè la mancanza di umanità di Israele della maggior parte degli israeliani abbiamo appena detto che sono i peggiori rassisti che si possano immaginare perché vedere altre persone io sono un nonno per cui quando penso ai bambini di Gaza veramente è qualcosa di inaccettabile qualcosa di pazzesco e vedere che oggi da una parte abbiamo forme terrificanti di violenza ma una violenza proprio senza il minimo senza la minima remora senza la minima come posso dire un ripensamento niente una violenza totale da una parte e dall'altra soprattutto nel nostro uccidente mi piace chiamarlo così uccidente l'indifferenza la cosa che mi ha colpito in modo terrificante è l'indifferenza nella stragrande maggioranza sia della gente ancora tutti quanti coinvolti nelle loro beghe mediocre di tutti i giorni cosa faremo a fine settimana dove andiamo in vacanza chi sta bene chi non sta bene avrà altri problemi nessuno che si ponga un attimo anche da un punto di vista emotivo da un punto di vista empatico si ponga davanti a quel disastro inenarrabile a quella catastrofe incredibile a quella violenta il male assoluto la peggiore manifestazione del male è stato il genocidio di Gaza a livello dei campi di sterbini nazisti assolutamente allo stesso livello mi devi scusare se ti interrompo però ho i minuti contattissimi concludo dicendo che questa cosa questa cosa forse e se ne è parlato prima un attimo i vari che vatteni e sono condizionamenti anche religiosi mancano i valori la religione non sviluppa più la spiritualità e non sviluppa più l'umanità nelle persone dobbiamo allargare lo sguardo e partire anche da lì grazie faremo un giorno una trasmissione su questo tema perché tu ci torni spesso e secondo me dobbiamo anche dobbiamo parlare un po' di questo aspetto però io prendo la palla al balzo prima poi di tornare ad Alessandro e poi chiudere Massimo qui Tiziano ha fatto dei paragoni anche di sovranità monetaria e tutto il resto cose che noi abbiamo già detto ma questa Europa questo Occidente questa Italia ma secondo me è proprio il caso di parlare di Europa rispetto a quello che sta succedendo cosa ne pensi? cioè siamo di fronte all'ennesima incapacità una delle tante cosa ne pensi? ma allora sicuramente siamo di fronte a incapacità anche perché chi occupa gli scrani europei tendenzialmente è persona scelta appositamente perché è mediocre e quindi più manipolabile più asservibile rispetto agli interessi che non sono quelli dei popoli europei ma sono quelli sostanzialmente di elite finanziarie anglofone perché pensiamo la genesi sta tutta nell'origine della UE la UE è una creazione sostanzialmente USA che interessata al proprio interesse ha creato cioè gli USA hanno creato un'Unione Europea che altro non è che una cozzaglia di interessi in conflitto alla fine e i risultati li vediamo non solo nel declino economico che abbiamo rispetto non solo agli USA ma anche rispetto a molti altri paesi declino dato anche da quello che diceva prima Tiziano cioè non avendo sovranità monetaria vera non siamo che destinati a declinare ma i risultati li vediamo anche in politica estera per la quale siamo assolutamente succubi rispetto agli USA e ai loro interessi cioè pensiamo quando gli USA sono andati via dall'Afghanistan Washington ci ha forse consultati noi ci siamo dovuti diciamo arrendere al dato di fatto idem per la Libia cioè pensate al danno che hanno fatto soprattutto all'Italia con l'operazione per eliminare Gheddafi in Libia anche lì siamo stati coinvolti come UE cioè la UE ha detto qualcosa hanno deciso gli inglesi i francesi gli americani e via fregandosene degli interessi italiani e degli interessi anche del resto dei paesi europei siamo sicuramente paesi molto divisi cioè l'Unione Europea non è un'Unione lo vediamo ripeto economicamente perché siamo sempre in conflitto cioè cerchiamo sempre di fare le scarpe a un altro paese della stessa Unione ma anche in politica estera cioè quando all'ONU si è votato per esempio sull'appello per il cessato e il fuoco proprio tra Israele e Hamas lì siamo andati in ordine sparsa alcuni paesi come la Francia hanno votato a favore altri contro come mi sembra l'Ungheria la Repubblica l'Austria e altri si sono astenuti come la Germania e l'Italia quindi anche lì proprio come se fossimo non un'Unione ma una disunione completa è chiaro poi che questo ci porterà a essere sorpassati da tutti gli altri paesi e da anche le altre unioni tipo i BRICS i BRICS sono destinati a fare un boccone della UE anche e soprattutto in politica estera ormai noi non siamo governati noi alla UE abbiamo una cozzaglia di burocrati che sono dedicati a curare gli interessi delle elite finanziarie piuttosto che i nostri cioè quelli dei popoli europei a loro basta limitarsi a giocare un po' con il linguaggio dei documenti anziché pensare a quello che è l'effettivo impatto delle decisioni che prendono sul mondo esterno tanto loro sono completamente distaccati dalla realtà che non cercano neppure di comprendere perché sono talmente mediocre che a loro basta che gli diano il regalino gli diano la statuetta quando li chiamano negli Stati Uniti e loro sono tutti contenti perché i potenti i veri potenti li hanno premiato e appunto come dicevo prima per questo vengono scelte persone mediocre per occupare quegli scrani pensate solo a Di Maio cioè lui è il rappresentante speciale della UE per la regione del Golfo cioè non ha detto una parola su quello che sta accadendo sul in Medio Oriente cioè non ha espresso un pensiero ma vi sembra una cosa logica cioè uno che parlava ogni pie sospinto ora non esprime un pensiero ma poi pensate anche all'Ucraina la questione ucraina cioè è in casa nostra praticamente lì basta un errore da parte di uno dei due eserciti per creare un disastro atomico anche semplicemente per le centrali nucleari che possono essere colpiti e dai giornali vengono considerati viene considerato un successo dai giornali mainstream questa vicenda perché tutti i paesi effettivamente tutti i paesi membri parte magari l'Ungheria sono tutti uniti nel supporto e nell'armare l'Ucraina ma anche lì non è un pensiero una decisione che hanno preso gli europei questa è semplicemente un allinearsi alle idee belliciste anglo-americane ci siamo semplicemente allineati continuiamo a comportarci come delle colonie non solo noi italiani ma anche la Germania la Francia eccetera e perdiamo quello che era una nostra peculiarità storica anche dei paesi europei quella di essere mediatori cioè il Medio Oriente ci riconosceva soprattutto noi italiani un ruolo da mediatori sulle loro vicende adesso cosa vuoi che non ci riconoscono più niente siamo il nulla figurati Netanyahu è andato a New York a dire io faccio quello che mi pare altro che mediazione italiana qui ci vorrebbe no infatti no ma io sono d'accordo purtroppo ogni volta le diciamo queste cose però non possiamo che prendere nota e prendere atto del fatto che è esattamente così allora Alessandro per chiudere come va a finire è semplice lo sa anche la patti è lì è lì che la vedo lo sappiamo benissimo come va a finire benissimo da quello che si può insomma da quello che si può dedurre leggendo varie analisi vedendo quello che succede penso almeno fino almeno nel breve periodo lì in Medio Oriente si va avanti come si va avanti in Ucraina dove e come prima o poi scoppierà anche l'affare Taiwan che per ora è sotto il tappeto ma poi l'obiettivo vero e la sfida vera per gli Stati Uniti è il ruolo sempre recente della Cina e il ruolo che hanno come giustamente è stato sottolineato prima altre altre organizzazioni internazionali come i BRICS che sono diventati PLAS perché nell'ultimo anno sono entrati vari paesi fra i quali l'Iran come l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai anche quella è un'organizzazione molto importante che comprende tanti paesi del cosiddetto sud globale io credo che il mondo vada verso momenti sempre più tessi sempre più destabilizzanti e si rischia sempre ogni giorno che passa una terza guerra mondiale perché da una parte ci sono gli Stati Uniti che non accendono assolutamente ad accettare di perdere il ruolo che hanno avuto appunto dal crollo dell'Unione Sovietica ma dall'altra parte ci sono tutta una serie di potenze e globali e regionali anche non dimentichiamoci per esempio per fare un esempio solo la Turchia la Turchia è membro della Nato però sta cercando nel limite delle sue possibilità di sviluppare una politica estera più autonoma dall'Occidente vediamo l'India per esempio l'India fa parte del Quad questa specie di mini Nato diciamo così del Pacifico e che arriva fino all'Australia appunto ma dall'altra parte compra petrolio malangate di petrolio a basso posto dalla Russia e fa parte dei BRICS quindi sviluppa una politica estera di autonomia strategica che certamente non fa piacere a Washington e al momento decisivo bisognerà vedere poi dove si piazzerà l'India e io non sono assolutamente sicuro che si piazzerà diciamo dalla parte dell'Occidente dunque credo che è un mondo sempre più destabilizzato tutte le regole internazionali belle o brutte che erano degli ultimi anni sono state spazzate via e dunque si va verso crisi sempre più importanti sempre più ampie anche fra potenze nucleari e dunque certo la terza guerra mondiale è più vicina oggi di solamente qualche anno fa beh ma tu non hai detto la parola risolutiva il nome risolutivo che ci solleverà da tutte queste preoccupazioni Kamala ce la risolve in un attimo prontissimamente in una risata ce la risolve con una risata ci seppellisce tutti va bene dai meglio che la prendiamo un po' sorridere io vi ringrazio volevo solo dirvi che per Parcondicio e anche per un servizio di informazione mi piacerebbe intervistare adesso nei prossimi giorni anche qualcuno dall'altra parte della barricata quindi magari un italiano che vive in Israele o un ebreo italiano adesso vediamo c'è qualcuno che la pensa in maniera diametralmente opposta perché la ritengo una cosa giusta anche cioè sentire tutte le campagne indipendentemente da come poi ognuno di noi la possa la può pensare speriamo che le cose insomma vadano in una evolvendosi e non involvendosi vediamo insomma però purtroppo il passato ci insegna che la faccenda è abbastanza difficile io ringrazio tutti siete stati gentilissimi siamo perfettamente in tempo e a questo punto alla prossima grazie grazie di tutto ciao ciao